Io non commento le indiscrezioni perché fino a quando i leader dei partiti non pubblicano la distribuzione dei seggi e dei collegi è inutile discutere di indiscrezioni giornalistiche. Io credo che ci sarà comunque un equilibrio generale che deriva dall'equilibrio nazionale che è stato rapidamente trovato dal centro-destra, che ricordo con poche ore di riunione ha stabilito metodo di selezione del premier, distribuzione generale dei collegi e quindi delle rispettive forze in campo, si stanno lavorando sugli ultimi dettagli, è stato già presentato il programma, insomma quella di centro-destra è l'unica coalizione pronta al voto a governare l'Italia, tutti gli altri non fanno altro che insultarsi l'uno con l'altro, fare patti e romperli e andare alla ricerca di complicate alchimie per mettere insieme soggetti che si sono insultati fino a ieri, quindi nessuno di loro può oggi davvero credibilmente offrire un programma di governo al paese e credo che il centro-destra raccoglierà i meritati frutti di un lavoro serio fatto in questi anni. Presidente, è indubbio però che anche in Abruzzo queste elezioni per quanto riguarda il centro-destra vedranno Fratelli d'Italia come traino? Fratelli d'Italia sono ormai un anno e più, tutti i sondaggi nazionali lo indicano come partito guida della coalizione, che cosa dire, adesso è inutile discutere di sondaggi, siamo arrivati, ora si vota, quindi il vero sondaggio è questo e a questo ci appelliamo, è naturale che già in questo momento siamo molto orgogliosi del fatto che un partito nato dieci anni fa, meno di dieci anni fa, al quale pochi pronosticavano anche solo di poter sopravvivere, oggi si propone credibilmente come il partito che può esprimere la leadership della coalizione, la presidenza del Consiglio dei Ministri nella persona di Giorgia Meloni, per chi questo percorso lo ha costruito in prima persona e per tutti noi che ci abbiamo creduto non può che essere motivo di soddisfazione, è anche la prova che un certo modo di fare politica con serietà, con determinazione, con coraggio nel sostenere le proprie posizioni, premia e quello che credo che i cittadini cerchino dalla politica sia esattamente questo, serietà, rigore, preparazione e coraggio nelle scelte.